salve amici e ben ritrovati in un nuovo video allora come da promessa vi ho portato in un posto dove avevo già anticipato su instagram e cioè la panchina gigante qui abbiamo logicamente delle scalette perché non so se vi potete rendere conto a che altezza è quindi sarebbe un po un problema salirci senza una adeguata scalettina e una volta saliti su ora a parte che vedo che ci sono saliti già con i piedi e non va bene quindi non mi ci potrò neanche sedere se no mi sporco comunque vi faccio vedere questo punto qui ci salirò anch'io guardate da qui che vista mozzafiato che si può ammirare la mitica panchina in pal di nevole è situata praticamente qua dietro questa curva qua c'è il ristorante pietre cavate è praticamente stata inaugurata da due giorni fa allora andiamo a vedere qui sotto se c'è qualcosa scritto qualcosa su riguardo la storia di questa panchina se non c'è nessun codice qr niente comunque bella è un bel lavoro l'hanno fatto complimenti lascia a voi immaginare che vista che si possa ammirare in serata e con questo ragazzi il video è purtroppo è corto perché non c'è altro che vedere questa magnifica struttura e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video se volete venirci e venite a monte catini poi andate in direzione piavanievole poi seguite le indicazioni per pietre cavate è molto semplice arrivare una strada un po in salita un po stretta però ci si arriva molto bene può magari ne approfittate anche per rimanere a cena qua con questo ragazzi nuovamente vi saluto e alla prossima